Che gli animi dei cittadini presenti in Consiglio Comunale per la protesta, volta a ricevere chiaramente uno sblocco della situazione riguardo al sostegno al reddito, fossero caldi, non serviva probabilmente nemmeno ribadirlo. A questo, come già si è verificato, si distinguono i singoli casi. Ognuno con una storia e un suo percorso e un'idea di come si stia affrontando il problema. Ennio, per esempio, mischia amarezza e rassegnazione. Ho visto la palese volontà di non trovare soluzioni mirate, ma di palleggiarsi delle responsabilità che poco importavano alle persone in difficoltà e in disagio economico. Due contributi straordinari, uno dei quali mirato, l'altro collettivo, a fronte della mancanza di un sussidio per tutto il 2018. Per Ennio il tutto si traduce in una violazione dei diritti umani. Non avendo percepito nulla da gennaio di quest'anno, quindi l'ultimo pagamento della mia risale al mese di dicembre, mi trovo praticamente con sei mesi di ritardo e verranno prese in carico a luglio barra agosto, significa praticamente otto mesi. Questo si traduce per il cittadino in una palese violazione dei diritti umani, in quanto si trova in uno stato di schiavitù e di sudditanza, si trova costretto o a delinquere da un lato se vuole vivere o come massimo gesto estremo, che ci sono già stati purtroppo dei casi di suicidi, o depressioni, pastiglie, medici e quant'altro. Non mancano poi i giudizi sulla card. E questa card, secondo me, è un ulteriore aggravamento della situazione. Ci sono dei pagamenti già venuti in aprile e persone che non hanno ancora il PIN, il che significa trattenere dei denari di persone bisognosissime fermi per burocrazia. Come se non bastasse, possono essere ritirati solamente 240 euro al mese, indipendentemente da qual è l'importo del sussidio e gli altri vanno spesi in determinati circuiti.